Rimedi naturali e casa per infertilità L'infertilità è un problema crescente nella società di oggi. Ho cercato di trovare informazioni precise su quanto si spende ogni anno in trattamenti di sterilità, e ho continuato a ottenere risultati di modi per finanziare i trattamenti per l'infertilità. La parte più triste è che in molti casi, il corpo può invertire la sterilità naturalmente se dato le risorse corrette. Infertilità, come ogni malattia, è semplicemente un segno che qualcosa non è giusto all'interno del corpo e deve essere fissato. Non è una carenza di farmaci per la fertilità o per mancanza di fecondazione in vitro. La fertilità è un processo naturale del corpo, ma che il corpo può disattivare se non ritiene in grado di sostenere in modo sicuro una gravidanza. Ho molti amici che hanno lottato per concepire o assistito a quanto è stato doloroso per il loro di voler avere un figlio e lottare per rimanere incinta. Fortunatamente, in quasi tutti i casi, i miei amici erano finalmente in grado di concepire, concentrandosi sul sostegno al corpo con una corretta dieta, integratori e stile di vita. Ci sono tanti fattori confondenti che possono causare o contribuire alla sterilità, che è il motivo per cui il trattamento convenzionale può variare così tanto in efficacia. Semplicemente non può affrontare tutte le possibili cause. Farmaci per la fertilità e ormoni artificiali di ogni genere, tra cui il controllo delle nascite, può rendere problemi di fondo meglio, ma può anche rendere ancora peggio e rendere il futuro di fertilità più difficile. Questo è triste, perché il controllo delle nascite ormonale è spesso prescritto per vari squilibri ormonali e problemi. L'infertilità può essere causata da un numero enorme di fattori, squilibrio ormonale, sindrome dell'ovaio policistico, endometriosi, cicli anovulatori, blocco fisico, la produzione di ormoni inadeguata, breve fase luteale, la mancanza di ormone luteinizzante, livelli elevati o prolattina, e molti altri. La cattiva alimentazione svolge spesso un ruolo importante, così come l'esposizione a determinate sostanze chimiche. ETA gioca meno di un ruolo prima della menopausa di quanto inizialmente pensato. Mentre ci sono molti meravigliosi specialisti della fertilità naturale e mentalità là fuori, in molti casi non è possibile per loro di testare e affrontare uno di questi possibili problemi di fondo. Trattamenti di fertilità estremi funzionano per alcuni, ma può essere molto emotivamente e fisicamente estenuante, per non parlare molto costoso. La grande notizia è che cambiamenti nella dieta e stile di vita possono fare una differenza enorme nella fertilità, e spesso aiutare con altre questioni come l'eccesso di peso, mancanza di energia, problemi di zucchero nel sangue, problemi di pelle, e insonnia nel processo. Anche coloro che scelgono di sottoporsi a trattamenti di fertilità convenzionali può contribuire a migliorare le loro possibilità di lavoro, sostenendo i loro corpi in modi naturali. Come invertire sterilità. Questo è il sistema specifico che uso quando si lavora con le donne sulla fertilità, ma è anche molto utile per aiutare con PMS, crampi, stanchezza, periodi pesanti e altri problemi ormonali. È stato progettato per affrontare tutte le questioni che possono contribuire, e breve di un'incapacità fisica di concepire, funzionerà. Nutrizione. Questo è di gran lunga il più importante passo. Nei tempi moderni, molte persone sono denutrite, pur essendo in sovrappeso. Il corpo non permetterà a concezione a verificarsi o ha una gravidanza di continuare se non ha il fondamento di base che deve sostenere una gravidanza. Molte donne si rivolgono a un basso contenuto di grassi, dieta ricca di fibre, nel tentativo di aumentare la salute e perdere peso. La perdita di peso ha dimostrato di aumentare la fertilità, ma perdere peso in questo modo è raramente efficace per aumentare la fertilità perché priva il corpo delle proteine e grassi necessari necessari per la produzione di ormoni. Alcuni modi nutrizionali per ottimizzare la fertilità. Rimuovere cereali trasformati, altri prodotti alimentari trasformati, zuccheri e amidi dalla dieta. Ottenere più carboidrati densi di nutrienti dalle verdure, alcuni frutti e le fonti di amido come patate dolci e zucca. Aumentare grassi sani nella dieta soprattutto da fonti come noci di cocco, olio di cocco, olive e olio d'oliva, burro, carni nutriti con erba, uova, avocado e noci. Ottenere abbastanza proteine soprattutto da erba alimentato, carni, uova e noci. Questo è importante anche durante la gravidanza come quantità adeguata di proteine può aiutare a minimizzare il rischio di alcune complicazioni di gravidanza. Mangia un sacco di verdure, varietà a foglia verde, come in particolare la lattuga, spinaci, broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolo, bietole, cavoli, cavolini di Bruxelles e verdure simili. Bere abbastanza acqua e idratazione è importante per tante funzioni all'interno del corpo, tra cui la fertilità. Ottenere livelli di insulina sotto controllo anche se non si dispone di diabete di tipo 2, una dieta ricca di carboidrati spesso va di pari passo con un certo livello di resistenza all'insulina. Ottimizzazione fattori dietetici con i metodi di cui sopra contribuirà a rendere il vostro corpo più sensibili all'insulina, che aiuterà la produzione di altri ormoni e il corretto funzionamento del corpo. Per alcune donne, nutrizione sola può essere sufficiente per sostenere il corpo per la fertilità. È molto importante continuare queste cose una volta in stato di gravidanza, e non smettere di dare da soli una corretta alimentazione, che è ancora più vitale per la crescita di un bambino non ancora nato. Stile di vita. Qualsiasi medico, o anche una ricerca su Google, dovrebbero rivelare che le abitudini come il fumo, l'uso di droghe, e l'assunzione elevata di caffeina possono seriamente compromettere la fertilità. Ci sono molti altri fattori di stile di vita che contribuiscono così. Mancanza di sonno. L'esposizione a sostanze chimiche nocive. La mancanza di esercizio fisico, o troppo esercizio. Alti livelli di stress. Alcuni farmaci o integratori. La maggior parte dei fattori di stile di vita sono anche facili da risolvere con un piccolo sforzo. I fattori di stile di vita più comuni che possono aumentare la fertilità sono. Ottenere abbastanza sonno-sonno svolge un ruolo fondamentale nella produzione di molti ormoni. Gli studi hanno dimostrato che le donne con bassi livelli di melatonina e serotonina hanno una più breve fase luteale, tempo che intercorre tra l'ovulazione e le mestruazioni, e di conseguenza hanno una minore possibilità di concepire. La mancanza di sonno altera anche la capacità del corpo di regolare correttamente l'adrenalina, il cortisolo e insulina, rendendo molto difficile il concepimento. Fare il sonno una priorità e ottenere abbastanza per sentirsi riposati, non solo sveglio. Questo può significare fare un pisolino durante il giorno o andare a letto qualche ora prima. Un ambiente completamente buio-sonno può anche aiutare i livelli di melatonina e il sonno. Ridurre al minimo l'esposizione a prodotti chimici nociva. Questo dovrebbe essere un libro in sé, ma la maggior parte delle donne notano miglioramenti da limitare l'esposizione ai prodotti chimici domestici, bottiglie di plastica e di cosmetici e prodotti di bellezza convenzionali. Ottenere la giusta quantità di esercizi Ottenere un adeguato esercizio fisico è importante per la fertilità, ma troppo può avere l'effetto opposto. La maggior parte delle donne fanno bene con diverse ore di attività ricreativa alla settimana, passeggiate, sport e divertimento, o il nuoto, e un paio di sedute di allenamento con i pesi. Troppa attività fisica moderata e intensa manterrà il corpo di ovulazione se fatto regolarmente. Mentre la perdita di peso può aiutare molto la fertilità, avendo troppo poco grasso corporeo, sotto 15-18%, può rendere il corpo va in uno stato annovulatori. Limite stress facile dirlo che farlo, soprattutto per chi sta attraversando le emozioni di difficoltà di fertilità. Probabilmente avete detto che se ci si può rilassare, si otterrà incinta. Anche se questo non è certamente vero per tutti, riducendo lo stress è una buona idea. Spesso, le idee di cui sopra aiuterà con molte delle cause fisiche di stress, lasciando più tempo per, si spera, rilassarsi. Verificare con il proprio medico per vedere se tutti i farmaci che sta assumendo potrebbe ridurre la fertilità. Steroidi e antidepressivi sono stati conosciuti per farlo, così come qualsiasi altro ormone che contengono o che interessano farmaci. Supplementi ed erbe Mentre la dieta è stile di vita da solo, spesso in fertilità a invertire, alcune donne notano risultati migliori o più veloci con l'aiuto di integratori naturali e le erbe aromatiche. Il singolo più importante integratore che ho visto aiutare le donne a aumentare la fertilità, è di fegato di merluzzo olio, che è anche eccellente per un bambino in via di sviluppo e una gravidanza sana. Queste erbe sono anche spesso raccomandati per contribuire ad aumentare la fertilità. Red Resp Berry Foglia è un noto erba fertilità che è anche un bene durante la gravidanza. Ha un profilo di nutrienti ed è particolarmente ricchi di calcio ed è un tonico uterino. È disponibile in forma di capsule, ma fa un ottimo tè caldo o freddo. Ortica Foglia ha un altissimo contenuto di minerali. Esso contiene un sacco di clorofilla ed è nutriente per le ghiandole surrenali e i reni. Aiuta a ridurre lo stress ed è un potente tonico uterino. Una volta in stato di gravidanza, è grande per ottenere abbastanza nutrienti durante la gravidanza e ha un alto contenuto di vitamina K per prevenire emorragie. Aggiungo foglie di ortica per un tè che bevo, prima e durante la gravidanza. Dandelion contiene le vitamine E, C e minerali traccia. La radice è benefica per il fegato e la foglia è leggermente diuretico. Può aiutare a purificare il corpo ed eliminare le tossine. Alfalfa ha vitamine A, D, E e K e 8 enzimi digestivi. Contiene tracce di minerali e vitamina K ed è spesso aggiunto alle vitamine commerciali a causa del suo alto profilo di vitamina. Red Clover ha un altissimo contenuto di vitamine e contiene quasi ogni traccia minerale. È stato conosciuto per aiutare l'equilibrio ormonale e ripristinare la fertilità. Maca un'erba ormone bilanciamento che è conosciuta in tutto il mondo per la sua fertilità e vitalità promuovendo proprietà. Buon per gli uomini e le donne per aumentare la fertilità, anche se le donne dovrebbero prendere solo tra mestruazioni e l'ovulazione e sospendere per assicurarsi che non è stata presa durante la gravidanza. Si tratta di un'erba molto potente che spesso ha effetti molto evidenti sulla fertilità. Si presenta in forma di polvere o capsule. Vitex casto albero berri nutre la ghiandola pituitaria e aiuta a prolungare la fase luteale. Si abbassa prolattina e progesterone aumenta. Per alcune donne, questo da solo aumenterà la fertilità. Le vitamine che favoriscono la fertilità. La carenza di vitamina D. La vitamina D è molto comune in America, soprattutto durante l'inverno, e può essere molto dannoso per la salute generale. Recenti studi dei collegamenti inadeguati di vitamina D con infertilità e aborto spontaneo. Avere livelli controllati per scoprire quanto è necessario. La vitamina C un potente antiossidante, la vitamina C è un bene sia per infertilità maschile e femminile. Obiettivo per almeno 2000 mg al giorno di preconcepimento. Folate folato, non acido folico, è ben noto come una vitamina necessaria in gravidanza per prevenire complicazioni, ma è più vantaggioso quando assunto per diversi mesi prima della gravidanza e durante. Aiuta la divisione cellulare e favorisce l'ovulazione. Alcuni medici naturali consigliamo di prendere fino a 5000 mg al giorno e le donne nella speranza di avere una gravidanza dovrebbero assumere almeno 2000 mg al giorno. È importante notare che molte persone hanno problemi con la forma sintetica, acido folico, e fare meglio con folati o metilfolato, questo post spiega più. Zinco molto importante per la divisione cellulare tra cui la produzione di sperma e l'ovulazione. Meglio se assunto in combinazione con vitamine del gruppo B. Selenio aiuta a proteggere il corpo dai radicali liberi e protegge lo sperma e uova. Noto per aiutare la divisione cellulare e potrebbe impedire aborto spontaneo. B-vitamine La carenza di vitamine del gruppo B è comune in chi consuma grandi quantità di prodotti alimentari trasformati, cereali o zuccheri. Ottimizzando i livelli di vitamina B può aumentare l'ormone l'utilizzante e ormone follicolo stimolante per migliorare la fertilità. Crema di progesterone naturale Lotte in fertilità spesso possono essere collegati a specifici squilibri ormonali. Soprattutto per quelli con cicli brevi o breve seconda fase del loro ciclo, ovulazione attraverso inizio delle mestruazioni, il progesterone può essere il problema. Ho visto persone solo aggiungere crema di progesterone naturale e ideare portare a una gravidanza sana entro un mese o due. Quando si utilizza la crema di progesterone, è importante fare ricerca, lavorare con uno specialista, assicuratevi di avere una buona marca che è utilizzare solo per la seconda metà del ciclo senza soia, ovulazione attraverso mestruazioni. Alcune fonti, tra cui una ostetrica e un medico mi fido, suggeriscono di continuare la crema di progesterone attraverso i primi tre mesi di gravidanza e poi si assottiglia per assicurarsi che il corpo ha progesterone sufficiente per continuare la gravidanza fino a quando la placenta prende il sopravvento la produzione nel secondo trimestre. Nuovamente fare ricerca e di lavorare con uno specialista quando si utilizza qualsiasi ormone.